Cari mamma e papà, se il vostro piccolo si è stufato dello sport che sta facendo e vuole cambiare, voi non sapete come gestire la cosa, ricordatevi che una volta iniziato un progetto è bene portarlo a termine, quindi dategli la possibilità di scegliere per l'anno successivo un altro sport, ma spronatelo e stimolatelo perché continui almeno per questo anno a finire quello che sta facendo. È importante che i bambini comprendano che lo sport come qualsiasi altro impegno si prende, è necessario poi portarlo avanti fino alla fine. Ovviamente valutate voi se questa cosa lo disturba talmente tanto che probabilmente può essere anche necessaria un'interruzione, ma ricordatevi che nel momento in cui sceglie uno sport nuovo è necessario che lo porti avanti fino alla fine. Simolatelo a cercare quelle che sono le sue attitudini, evitando di portare avanti le vostre, perché ogni bambino è un essere individuale a sé ed è necessario che porti avanti le sue aspirazioni e non quelle di mamma e papà.